Ok, come si fa a generare un buono dal sito cartadeldocente.istruzione.it Diamo per scontato che abbiamo già fatto la registrazione e abbiamo già ottenuto lo speed, cioè l'identità digitale Ok, sulla destra c'è questo tasto in cui c'è scritto Entra con speed Ci si clicca sopra e si seleziona il servizio con il quale si è ottenuto la nostra identità digitale Nel nostro caso quello di Poste Si passa automaticamente dentro il sito di Posteit dove dovremo inserire il nostro nome utente e la nostra password Dopodiché si cliccherà su Entra con speed Siccome i livelli di sicurezza dello speed sono notevoli Bisognerà a questo punto scegliere quale livello, quale modalità utilizzare per verificare la propria identità Io scelgo quella di ricevere un sms perché mi sembra quella più semplice Nello spazio Digita il codice appena inviato via sms digiterò il numero a 6 cifre che ho ricevuto tramite sms dal sito di Posteitaliane Dopodiché clicco su Prosegui Una volta inserite le proprie credenziali per lo speed Si arriva finalmente alla pagina carta del docente del proprio account E si può andare a cliccare su Crea buono Ci sono due tipi di buono che possono essere generati Per fare acquisti online oppure per fare acquisti in negozi fisici Seleziono l'icona con il negozio fisico E decido anche in quale ambito voglio fare i miei acquisti C'è un primo ambito, formazione e aggiornamento Libri e testi, anche in formato digitale Mostre e eventi culturali Musei Cinema, teatro, spettacoli dal vivo E hardware e software Se volessimo acquistare per esempio un nuovo tablet O un software specifico per l'apprendimento Andrei a cliccare qui sopra Ecco, selezionando la voce software A questo punto mi si apre una finestra bianca In cui andrò a inserire l'importo del buono che voglio utilizzare So già che il mio software costa 50 euro E inserisco la cifra 50 Dopodiché clicco su la voce Crea buono Mi chiede di confermare la creazione di questo buono E clicco di nuovo sulla voce Conferma Ecco qua che ho creato il buono da 50 euro Ora, in realtà io non voglio utilizzare questo buono Oppure mi sono accorta che l'importo è sbagliato Posso scorrere in basso sulla pagina E annullare il buono Nelle righe superiori invece ho la possibilità di salvare il buono come immagine Perché il mio gestore di negozio Di catena informatica o di qualunque altro tipo di attività Potrebbe avere un lettore per codici QR Posso decidere di salvare il buono in un formato PDF E quindi trasportarlo sul mio cellulare Posso anche andare a vedere dove spendere il buono Nei vari negozi presenti sul territorio italiano E questo è tutto Grazie